il mister beppe cardone sottofondo sentiamo la fiorentina che festeggia questo successo sul parma per noi rimane la consolazione diciamo così della prestazione all'altetta la parte dei ragazzi c'è stato sicuramente una crescita anche rispetto a quella che era stata la partita dell'andata dove il risultato era stato sicuramente più netto in modo del vero primo tempo in termini numerici sicuramente loro hanno avuto delle occasioni in più di noi però in un paio di ripartenze li abbiamo gestiti malissimo in partenza eravamo 5 contro 1 però vabbè poi dopo abbiamo preso il gol che io sono d'accordo prendere gol in qualsiasi modo ma non così però va bene insomma quello che resta è la prestazione sicuramente loro oggi hanno trovato un osso più duro rispetto all'andata e quello mi fa piacere questo è importante insomma essere riusciti anche a proseguire questo trend di prestazioni all'altezza della situazione ma sì era quello che si interessa di più riuscire a dare continuità di prestazione ovvio che poi dopo quando giochi con squadra che hanno sicuramente molto blasone non che il parma non lo abbia ma il parma è stata ricostruzione quindi la fiorentina invece sono già già tanti anni che hanno un lavoro consolidato valori tecnici assoluti credo che oggi noi siamo stati in partita e questo è stato importante probabilmente a tratti siamo stati un pochino timorosi però ci sta anche nel percorso di crescita che una squadra possa avere a volte un timore reverenziale un po troppo grande rispetto a quello che dovrebbe essere però ripeto l'episodio oggi ha preso un gol un po da polli via per dire per non dire parolacce un gollo come diceva la giallata grazie